Come già espresso a febbraio del 2022 dal Partito Democratico regionale e dai consiglieri comunali di centro-sinistra, anche il PD di Pescara torna a ribadire con forza il più ampio disappunto sulla delibera del 17 giugno scorso sulla riqualificazione dell'area di risulta di Pescara e sul relativo protocollo di intesa regionale che prevederebbe la costruzione, proprio nelle aree di risulta, del nuovo palazzo della regione di Pescara. Noi siamo indubbiamente favorevoli ad una razionalizzazione rispetto alla collocazione del palazzo di rappresentanza regionale. Pensiamo però che sia profondamente sbagliato collocarlo nell'area di risulta. Proponiamo una collocazione nella periferia ovest, questo sia perché è un'area che va riqualificata e va rigenerata anche rispetto a quello che può essere l'apporto di servizi di collettività pubblica come un palazzo di rappresentanza regionale. Ma pensiamo che rispetto alla visione di Pescara complessiva come città ci debba essere più visione, più prospettiva e quindi che bisogna coniugare rispetto alle scelte urbanistiche quelli che sono i bisogni della città come con quelle che possono essere le esigenze ambientali e soprattutto quelle che sono le funzionalità che le opere urbanistiche possono avere rispetto proprio all'accrescimento del valore. Pescara è una città che ha delle potenzialità infinite e che deve essere guardata come una città europea perché ha tutte le carte in regola per esserlo. Noi chiediamo di essere parte anche in causa per contribuire con le idee, con una visione. Noi vogliamo scongiurare che sull'area di risulta ci possa essere un viale Marconi-Biss e pertanto dato che noi stiamo facendo di tutto passo dopo passo per andare verso la nuova Pescara, questo grande progetto di fusione dei comuni, c'è bisogno di ragionare anche in base a questa nuova visione, a questa nuova sfida e il Partito Democratico non dice no a una riqualificazione, a una razionalizzazione dei palazzi, del palazzo regionale, ma noi lo vogliamo fare con criterio non casuale.